Due ingressi in giunta. La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha scelto il vice sindaco. Si tratta di Stefano Romano con le probabili deleghe ad Affari Generali, al Personale e alla Polizia Municipale. Altra nomina in giunta è quella di Pietro Cerullo che dovrebbe occuparsi di lavori pubblici e sportivi. Entrano in Consiglio Comunale Antonietta Petrosino e Michele Alessio. Ma la giunta non è completa. Nei prossimi giorni, forse ad inizio settimana, dovrebbero essere nominati altri tre assessori. Fra questi in pole position Giuseppe Salvatore, Francesco Marino e Carolina Vicinanza.